C'è il primo trickshot tutorial su Call of Duty Advanced Roof E in pratica come lo state già vedendo è il NAC con il termico Un trick abbastanza semplice sia da fare ma anche bello carino da vedere Quindi ma ve lo spiego innanzitutto le classi Le classi sono questo qua, ad esempio il Morse, ci ho messo lo zoom variabile e il calcio Poi leggero prestigiatore destre Poi ovviamente i lancatori EXO li scegliete voi Infine dovete mettere una principale, però attenzione, una principale ovviamente con risposta eccessiva O un fucile d'assalto, come in questo caso l'IMR Oppure una mitraglietta Con gli altri cecchini e con i mitragliozzi non funziona E quindi questo movimento lo potete fare solo con le mitragliette e il fucile d'assalto Ve lo spiego Voi basta che avete una mitraglietta, un fucile d'assalto con il mirino termico Basta che mirate e fate triangolo Quindi mirate e fate triangolo Oppure Y su Xbox In pratica dovete cambiare arma Ed è abbastanza carina come trickshot Sia da vedere sia da fare Perché è da fare anche abbastanza semplice Ora ringrazio comunque Rusher, Slayer e Blepo che mi hanno fatto setup per questi due clip che vedrete adesso Lasciate un bel like, un commento e ci vediamo al prossimo video Cercherò di farvi nuovi trickshot tutorial abbastanza veloci come questo Da farvi ben capire come si fa dei trickshot molto carini su Closet of Dance Dwarf Spero vi sia piaciuto Da Gioe E tutto Bella Ciao Ciao